venerdì 17 maggio venerdì 17 maggio 24 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno agli appuntamenti allora oggi alle 13 friday mi live naturalmente anche di venerdì 17 perché noi non siamo scaramantici e quindi ci troviamo con vincenzo per continuare ad analizzare tutte le cose che riguardano il milan e alcune di queste le vedremo anche tra poco nei quotidiani poi domani è giorno di partita si gioca domani sera a torino milano e quindi l'appuntamento nell'intervallo naturalmente il video post partita e poi post partita in diretta come sempre quando gioca il nostro milan e temi di giornata l'allegri furioso ovviamente su tutte le prime pagine dei giornali ma non solo quelle sportive guardate qui il corriere della sera vedete c'è scritto guardate la coincidenza condannare ogni violenza e poi sotto c'è no sono le parole mattarelle questo c'è allegri allegri furioso divorzio amaro con la juventus il tecnico squalificato per due turni possibile esonero qui lo vedete descamisado come mai si era visto anche sulla stampa di torino il titolo è allegrex sit il calcio sbroccato di max dopo la notte folle di coppa italia la juve pronta all'esonero anche sul su repubblica in basso vedete c'è l'abisso di allegri e il tramonto degli allenatori panchi star vedete allegri mentre si spoglia delle sue vesti e rimette il mandato nelle mani della juventus anche la gazzetta dello sport naturalmente apre su max allegri l'addio al veleno lo vedete qui la rabbia della juve dopo le scenate di roma con allegri è finita lo sfogo di giunto li urla liti si valuta l'esonero immediato per giusta causa è pronto montero il futuro è tiago motta poi a destra invece l'altra l'altra questione importante di questi giorni ovvero la situazione della proprietà dell'inter perché è scontro sul prestito ora il club rischia lo stallo zang con octri pinco alta tensione vedete qui in ballo naturalmente ci sono anche dei rinnovi che questo momento sono sospesi ne ha parlato lautaro martine si il suo ma anche quello di di simone in zaghi insomma la situazione che entro qualche giorno dovrà sbloccarsi poi in basso ci siamo noi con ora fonseca fonseca ora va in pressing mina mi vuoi dice l'ex tecnico della roma e attuale tecnico del lille l'intreccio col marsiglia capete insomma che è conteso tra noi e il marsiglia no non siamo tornati agli anni 90 no no purtroppo no la fuga spettacolare di alla filippe parliamo del giro d'italia alla tappa di fano e poi le parole di de laurentis sul futuro del napoli e de laurentis intenzionato a fare grandi cose questa estate ma dice non c'è soltanto antonio conte intanto questa sera la il campionato riparte alle 20 45 con la sfida tra la fiorentina e il napoli il corriere dello sport sceglie un titolo eloquente mad max la juve perdona la notte di foglia di allegri ma l'esonero a fine stagione è certo guardate che sguardo agghiacciante di massimiliano allegri eccolo qui eccole qui le parole di de laurentis che dice ricostruirò un napoli fortissimo bisogna rifondare ma ci vuole tempo sono serenissimo sul futuro di quara non ci sono giocatori incelibili conte non c'è solo un uomo che può portarci lontano ecco qui il tabellone della penultima giornata di serie a con fiorentina napoli questa sera domani lecce atalanta e torino milan e poi tra domenica e lunedì il resto del programma spicca interlazio ma poi ci sono partite importantissime per la salvezza soprattutto quella di reggio emilia alle 12 e 30 di domenica sassuolo cagliari e quella di udine alle 15 tra l'udinese e l'empoli ovviamente anche tutto sport figuriamoci tutto sport il cui direttore è stato minacciato di staccare le orecchie da parte proprio di allegri e allora tutto sport mette questa volta questa foto così di max e poi il titolo è che brutta fine che brutta fine dopo la notte di rabbia e follia la società riflette su un addio immediato e pensa a montero per gestire gli ultimi impegni poi sotto vedete simeone per l'attacco del torino la situazione dell'inter entro martedì vanno versati 385 milioni per liquidare il fondo californiano a te che ti arriva sollecito per pagare la bolletta del gas era questo come sta 385 milioni pagare entro martedì alla fine poi nella vita tutto diciamo è abbastanza relativo vi faccio vedere questa cosa intanto sono arrivate le convocazioni per quel che riguarda gli europei della francia torna cantè dopo due anni è andato a giocare in campionato dell'arabia saudita quindi cantè parteciperà gli europei insieme a lui a chilien bappé che qui è da madame tussaud con la sua statua di cera fortuna nostra che non ce ne saranno due agli europei ma ce ne sarà soltanto uno mancava solo di avere due chilien bappé in nazionale allora temi e approfondimenti l'addio della alla juventus da parte di massimiliano allegri la juve volta pagina è finita con allegri il club valuta pure l'addio immediato il futuro è tiago motta lo strappo col tecnico è insanabile non verrà confermato se salta subito è pronto montero e dunque l'eventus volta davvero pagina dopo quella che la gazzetta dello sport definisce notte da paura guardate qui vedete proprio come i fumetti allegri mai visto così furioso scenate urla e nervi saltati lo sfogo con l'arbitro costa max una squalifica di due turni dopo il diverbio con giuntoli alta tensione in zona stampa e dunque il futuro della juventus potrebbe chiamarsi tiago motta ovviamente dalle parti di bologna non la pensano proprio così perché vorrebbero tenerlo e quindi sarà l'ultimo tentativo da parte di giù saputo motta verso la juve ma saputo è pronto a dargli più poteri il presidente proverà a convincere il tecnico offrendogli un ruolo centrale nelle decisioni ora non me ne vorranno gli amici dell'inter ma questa mattina così mi sono fatto non una risata mi sono fatto un minuto un sorriso insomma perché sfogliavo la gazzetta dello sport e allora qui c'è la mutandense e nella pagina dopo c'è zang vai dai un applauso un applauso di incoraggiamento per quest'uomo che deve trovare un sacco di soldi da restituire entro martedì zang il tempo agli sgoccioli ora con octrisi rischia la causa l'inter si resta col fiato sospeso continua il muro contro muro il fondo fa pesare la quota sulla rivendita del club e i tempi possono allungarsi qui c'è tutta la situazione della dell'inter e del punto del prestito che va restituito eccetera eccetera che ci fa tutti di tirare un sospiro di sollievo rispetto alle nostre situazioni economico finanziarie vorrei ringraziare personalmente marcus turam vorrei ringraziarlo perché ieri è riuscito finalmente a non far sembrare solamente i nostri dei come si dice dalle mie parti paia si eccolo qui lo vedete marcus turam con questo look con questo look un po la grace jones mi verrebbe da dire ricordate grace jones credo che sia il gentleman premio gentleman ieri dove c'erano anche pulisic che ha detto che in italia si mangia abbastanza bene e reinders qui vedete insomma marcus turam allora come si vestirà paolo fonseca non lo sappiamo non sappiamo nemmeno se sarà lui l'allenatore del milan ma nel frattempo va in pressing lui su di noi eccolo qui fonseca in pressing paolo ora è in paul e spinge per il milan mi piace tanto pure al marsiglia i francesi lo corteggiano però vedono anche con sei sao il tecnico del lille preferirebbe i rossoneri la decisi sarà decisiva la prossima settimana nel frattempo domani si gioca quanto pare le au va di nuovo in panchina il finale part time ancora fuori cioca for rafa verso un'altra panchina torino con lo svizzero e con luca jovic là davanti di questo parleremo naturalmente domani oggi come vi dicevo il campionato riparte riparte con un'interessante sfida al franchi tra la fiorentina e il napoli fiorentina napoli tutto in una notte vale l'ottavo posto come una finale vedete per gli azzurri l'ultima chance per l'europa che la viola può conquistare già stasera oppure vincendo la conference qui le formazioni di questa sera naturalmente il solito attacco per la fiorentina con nico gonzalez beltrano e qua me belotti là davanti varascheri araspadori e politano invece per il napoli che non ha victor osimen interessante sondaggio della gazzetta dello sport tra i tifosi i quali sono molto diciamo molto cardinalizi serve sostenibilità il sondaggio i tifosi chiedono società più sane non ho le spese pazze per vincere subito vedete che poi alla fine c'ha ragione gerry cioè è lui che lui c'ha ragione c'ha ragione e ormai la spending review è sempre più condivisa il pallone resta un asset strategico ma servono le riforme quindi non è più calcio ma è calcio e finanza e dunque ci avevano visto lungo con quel giornale o sito web non lo so che cosa sia insomma o chiudiamo con la serie b perché c'è stato il l'andata dei play out tra il tra il bari e la ternana finita 1 a 1 per ero gol bari trema ternana pari d'oro la salvezza vicina il san nicola è gelato nell'andata dei play out tanti colpi di scena poi va segnonasti l'uruguaiano l'ottantaduesimo trova l'1 a 1 grazie alla deviazione di le cesare e ora la situazione è questa la ternana in vantaggio breda si salva se chiuderà la sfida di ritorno al liberati con una vittoria o con un pari se le squadre chiuderanno la doppia sfida a parità di punti di gol resta in bila meglio posizionata in campionato e quindi e quindi il bari deve fare risultato nella partita di ritorno non credo parleremo di questo oggi a friday mil live parleremo sicuramente del milan quindi l'appuntamento che rinnovo a voi è quello delle 13 in diretta con vincenzo campitelli voi i messaggi e tutti insieme per la nostra chiacchierata quotidiana nel frattempo grazie e buona giornata grazie a tutti